Mi chiamo Massimo Valeri, sono il presidente dell'associazione KNX Italia. Siamo venuti qui a questa settimana della bioarchitettura e della domotica per presentare e per parlare dello standard KNX. Standard che quanto mai è importante e significativo in un evento come questo perché è diventato un elemento fondamentale per la gestione dell'efficienza energetica e per la messa in atto di sistemi per l'efficienza energetica nell'edificio. KNX è uno standard domotico europeo che ha superato anche i confini della stessa Europa e si è diffuso a livello mondiale. KNX permette di gestire politiche di efficienza energetica dell'edificio, questo permette di gestire il metering, cioè la contabilizzazione dell'energia all'interno dell'edificio. È un sistema standard, è un sistema che ha tre punti di forza. Primo la certificazione di prodotto, vale a dire a questo standard aderiscono oltre 300 costruttori in tutto il mondo e i prodotti di questi costruttori sono interoperabili, nel senso che possono essere sostituiti senza problemi di compatibilità. KNX garantisce anche il training e la formazione di tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo standard ed utilizzarlo e fornisce anche degli strumenti di configurazione come il software ETS che sono unici nel mondo KNX e indipendenti dal costruttore. Ma in questo momento diventa importantissimo inserire all'interno della tecnologia dell'edificio un sistema domotico come fulcro di integrazione tra gli impianti. Non si capisce perché tutto il mondo della tecnologia, dal mondo delle telecomunicazioni all'automobile, viaggia a velocità assurde, mentre la tecnologia dell'edificio, all'interno dell'edificio, è rimasta ferma essenzialmente agli anni 90 con la legge 46. È importante che dal punto di vista tecnologico arrivino soluzioni che portino a una integrazione dei sistemi e in particolare quello elettrico, quello termotecnico e quello della contabilizzazione e dall'altra parte è importante che ci sia anche una convergenza degli enti e delle commissioni tecniche e legislative che si occupano di impianti dentro agli edifici.